signore e signori un bene ritornato a tutti in questo nuovo episodio dei pokémon di sto cazzo di spade scudo abbiamo appena fatto una pirouette strana ma va bene lo stesso allora dunque eravamo rimasti è che dovevamo andare da qualche parte ok scherzavo non andiamo da nessuna parte allora che è successo il cancello aperto blablabla e sti cazzi subiremo una mega invasione da parte di qualcuno per l'avete da tutti mi sembra una nipote entrata non dette cazzi suoi che facciamo aiutiamo quel poco ma andiamo a cercarci delle grade subito così appena iniziato l'episodio andiamo a cercarci delle grade non vieni te ok bosco assopito mi viene già solo è abbastanza oscuro ok se troppo tardi va bene io a naso incendierei tipo il mondo ma va bene lo stesso è dedicato sei allora azione perfetto aia infanti danni stupro di livello 2 ok fuori delle palle mi vuole essere un po' di esperienza va bene 11 un cazzo perfetto vabbè ah ok mi do la risetta così a razzo merda che cazzo sei non sarei un parente di uo di uo di uo vabbè vabbè lotta perfetto il tipo normale non posso neanche usare potrei usare un bracciere effettivamente full di sguardo eeeh un sguardo proprio la difesa degli scorpani diminuisce ma noi siamo stronzi e ti bruciamolo anche la mamma perfetto molto bene 11 9 vogliamo facciare ancora più schifo che è sto rumore eeeh 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 merda no abbiamo uno scogliattolo del cazzo allora lotta bracciere vediamo se per sbaglio bruci rapidamente no non abbastanza brutto colpo ma non andava bene colpo coda quindi cos'è l'attacco di riunisce no la difesa eeeh eeeh facciamo azione che intanto ha poca vita perfetto non abbia energie a posto a posto molto bene ok ok luce esperienza bla 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 cazzo e mazzi ok perfetto questo siamo a posto 19 ok cerchiamo di ok eeeh capito se hai ficato nel guai però qua c'è stiamo andando a prendere in culo noi alla fine prendendo e scherzando se vedete un cazzo la nebbia a sinistra poteva anche essere a destra per i miei gusti ma va bene lo stesso e mo da che parte siamo girati salve lei è la spada è apparso punto interrogativo punto interrogativo punto interrogativo punto interrogativo si non mi aspettavo un combattimento così sull'unghia ma va bene lo stesso è un ologramma è un ologramma proviamo con azione che cazzo sta facendo sto gioco a sto punto mi leverei rapidamente dei coglioni per qualche motivo non puoi fuggire eeeh proviamo con le mosse audio tipo ruggito la mosse non ha effetto eeeh si si vede più un cazzo che bisogna fare? che è morto qualcuno? è morto qualcuno? vedo un cazzo ma vedo qualcosa degli alberi la nebbia e io che sono morto perfetto fine dell'avventura che cazzo che cazzo va bene preoccupati ok c'è la Challenger Sì, va bene. Questa è un po' di domani, ma non mi ha seguito qualcosa. Lo stiamo a Pokémon, oh mio Dio! Sembra che non potesse colpirlo, lo colpivano, forse in realtà. E' una sorta di miraggio, ah, quando siamo più fighi riusciremo a sconfiggiarlo. Va bene, mi ha fatto un'esperienza unica, se nella tua leggenda ti ha parato il culo tuo fratello, ma va bene lo stesso. Ok. Andiamo a Bruggery. Devo dirlo a mia madre, mi sembra, più do male. Sì, se no poi ci ca. Sarà in cucina, come sempre, come tutte le mamme di Pokémon in cucina. Dunque, fare un Pokédex, sì, andiamo a farci dare un Pokédex. Come di qualche pozione altre cosette utili. Scorbani bla bla bla. Trattalo bene, eccetera eccetera. Scorbani un cazzo. E volevo dire, prendi tu la Mickey Mouse. Va bene, si fide più del Pokémon che di me, quindi è la mamma migliore del mondo, probabilmente. Va bene, resettiamo tutto. Salviamo anche, che non l'abbiamo ancora fatto. Quindi, Ickes. Possiamo fare salva. Salva. Abbiamo salvato il gioco. Perfetto. Molto bene. Possiamo levarci dai coglioni. Allora, dobbiamo andare a fare in Q. Ma sono comparsi dal nulla quei alfai là, scusate. Sì, compaiono dal nulla i Vulu. Che figo. Che bello questo effetto pop-up, eh. Tanta roba. Oh, è sediamo qua a rompermi i coglioni. Che cazzo vuoi? L'abbiamo già fatto? L'abbiamo già fatto una volta? Perché io? Devi venire anche te. Poi ho visto una Pokéball di qua. Cosa sono questi affari? No. Ah, l'uccellino di prima del bosco. Spendiamo sta cosa. Una pozione. Perfetto. Perché qua non mi fanno... Mu-z-lo. Ma vaffanculo. Ma abbiamo già capito, passiamo in mezzo qua. Allora, lì c'è... C'è un Vulu, ma non me ne frega un cazzo, onestamente. L'uccellino per adesso non ci... No, quasi quasi. Vediamo un po' come combatte un Vulu selvatico. Allora, lotta. Vediamo un po' se riesco a sbrucciacchiare rapidamente. Non è tanto. Non è livello 5. Io sono a livello 7. Ragazzi. Sì. Vabbè. Scuttato. Molto è buono. Ah, finisci di zompettare che gli stai dando quasi fastidio. Vabbè. Andiamo giù di azione. Magari mi ha gestata sui denti. No, eh. Verogitemi, abbassa l'attacco. Ah. Beh, tanto te stai bruciando male, quindi se ne cura. Ah, il mio scorbaglio è femmina, l'ho visto adesso. Non ci avevo fatto caso. Perfetto. Ci siamo tolti dalle palle Vulu. 97. Complimenti. Attacco rapido, che serve tanto. Vediamo un po' se mi viene a fare il punto esclamativo come prima. E' difficile camminare piano. E' sensibilissimo il pad. Eh? Chi è? Oh, guarda chi c'è. U8. U8. E' quello che è. Da quanto tempo non ne vedevo uno? Allora, dunque. Cosa vuol dire la X con la Poké Ball? Ah, posso usare direttamente la Poké Ball da qua. Carina. No, me ne frega un cazzo. Quindi facciamo l'otta. Facciamo... Va, cambia niente. Bracere. E via. Beccata, che non dovrebbe fargli poco e niente. Lotta. Azione. Così muore subito e via. Molto, ma molto bene. Ok, quindi ci sono dei Pokémon che si vedono, cioè non si vedono e quindi sono tipo randomici nel punto esclamativo. Ok, buona sapersi. Allora, adesso dello scogliato e delle cose non me ne frega niente. Questa. Salve. Lei sarebbe? No, che brutta. New kit. Va bene, non so come si pronuncia, va bene lo stesso. Info Pokémon, cosa mi dice? Vediamo un po'. Ah, mi dice solo il coso, niente. Perfetto. Questo non ci interessa per adesso. Quindi facciamo lotta e facciamo... Vediamo? È un Pokémon di Pokémon o di cosa? Insomma, è quasi un Pokémon di Pokémon questo qua. Ok. Colpo coda, ovviamente non ci fa più tanto. Allora, la difesa di Sprograni mi unisce, non ce ne... Ypsilon? Perché mi lampeggia Ypsilon? Ah, perché c'ho qualcosa di importante. Ah, dice che la difesa è scesa, ok, perfetto. Ok, molto buono. Eh, dunque, adesso facciamo lotta. Tanto non me ne frega più di tanto, facciamo azione e ce la vediamo. Ci vediamo rapidamente dalle palle la molte. Perfetto. Punti esperienza, numero... 15. Ma perché 95 e 15? Non ho capito sta differenza. Antiparalisi, perfetto. Molto bene. Allora, leviamoci finalmente dalle palle e andiamo in città. E c'è un Charizard. Ciao Charizard. Ok, allora, signore. Prima di andare a prendere il nostro Pokédex cazzi e mazzi, ci salutiamo, ci vediamo nella prossima puntata e ci vediamo poi dentro al laboratorio del Pokémon di Stacepa di Minchia. Per il momento, signori, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao, ciao!